Buonasera, stiamo per vivere una notte all'insegna del maltempo praticamente su tutta l'Italia, con neve sulle nostre Alpi centro-orientali e rischio di piogge localmente anche molto abbondanti sui nostri settori ionici. Le piogge proseguiranno anche nel corso della giornata di domani, quasi da nord a sud, ad eccezione dell'estremo nord-ovest che vedrà qualche schiarita. Anche domani avremo il rischio di piogge molto forti su tutti questi settori evidenziati in grafica e proprio a causa delle piogge forti avremo l'acqua alta Venezia con il picco massimo di 125 cm e venti molto forti soprattutto al sud. Tutti i dettagli su meteo.it